Bene, vieni Matteo, vieni, introduciamo Matteo, mentre finisce il giro ti introduco. Ho chiesto a Matteo ieri di che cosa parlava perché io come sempre non mi preparo, però mi ha brevissimamente con poche parole raccontato quello di cui ci parlerà. La cosa bella è che anche il suo è un progetto che nasce dalla tesi di laurea, quindi è la seconda presentazione che nasce da una tesi di laurea, è un progetto open anche questo, quindi è il terzo progetto open che vediamo oggi, a dimostrazione secondo me che la nostra community è importante e continuare a spingere in questa direzione, avere nuove persone è proprio lo spirito di Akinbo. Ricordo a chi cerca lavoro che c'è braccialetti e recruiting. Matteo, buon lavoro, grazie e hai 45 minuti. Ok, perfetto. Allora, prima di cominciare vorrei ringraziare ovviamente Mario perché ogni anno si sbatte un sacco, solo lui sa quante cose fa contemporaneamente e quindi per lui organizzare questo evento, anche quest'anno, questa edizione è stato uno sforzo immenso, quindi vorrei ringraziarlo di cuore anche per avermi dato l'opportunità, applauso, applauso, anche per avermi dato appunto l'opportunità di essere qua a parlare e anche ovviamente un grazie all'isponso perché economicamente supportano il progetto. Allora, oggi come ha già detto, io vado a parlare di quello che è la mia tesi di laurea magistrale, che si chiama Malstream ed è un framework che fa attribuzione di malware in maniera automatica e scalabile. Allora, per cominciare quindi dico chi sono io. Io sono, come detto, Matteo Corradini, lavoro in Cluster 25 da un paio di anni. In Cluster 25 questo team che si occupa di Cyber Threat Intelligence e al suo interno ci sono ovviamente persone che fanno reverse engineering, persone che fanno geopolitica e poi ci sono io, a capo di un team di sviluppatori, che facciamo tutta una piattaforma e servizi annessi focalizzati appunto sulla Cyber Threat Intelligence. Tra questi servizi ci sono degli script che vanno ad automatizzare la raccolta di indicatori di compromissioni da sorgenti terze e dal malware stesso. Diciamo che io all'interno di Cluster 25 ho ricoperto tanti ruoli, per cui per qualche mese ho anche fatto reverse engineering proprio, però l'ho mollato, diciamo così, dopo poco tempo perché mi rendevo conto che passavo più tempo a sviluppare degli script per automatizzare tutte le cose noiose, manuali, piuttosto che poi fare effettivamente reverse engineering con Ida Pro, come tutti sappiamo bene. E quindi lì mi sono detto, ma perché non creare qualcosa che fa effettivamente quello che ogni giorno faccio al posto di fare una lista e così sono diventato più uno sviluppatore. Al di là di questo, diciamo così, nel tempo libero faccio atletica. Qua nella slide ho messo due foto di me, una mentre sono sui blocchi di partenza e l'altra mentre corro, effettivamente. Allora, di cosa parlerò oggi? Andiamo a vedere intanto quali sono i benefici di fare attribuzioni di malware e quali sono i limiti delle soluzioni correnti per fare questa attribuzione in maniera automatica. Poi vi parlerò di mass stream e le sue feature, andremo nel dettaglio, nel vedere l'architettura di questo framework. Vi farò vedere uno scenario di vita quotidiana dove può essere utile per un analista utilizzare il framework sviluppato e vi farò vedere brevemente le performance che ho ottenuto e delle considerazioni finali sullo stato, diciamo così, dell'arte del framework. Quindi partiamo sull'attribuzione. Nello specifico vediamo perché è importante, a meno a mio avviso, fare attribuzione di un malware di sample andandolo ad attribuire ad un 3-tactor oppure ad una famiglia di malware. Quindi è importante fare attribuzione di un 3-tactor perché in questo modo capisco la minaccia nel contesto geopolitico nel quale è avvenuta. E quindi riesco a capire se un determinato malware utilizzato in un attacco informatico appartiene a un certo gruppo APT che magari ha come obiettivo uno specifico settore o una specifica area geografica e in questo modo se un mio cliente oppure io stesso posso essere target di questo gruppo malevolo allora posso implementare delle regole e inserirle nei miei sistemi sia di protective prevention che di detection. Inoltre fare attribuzione di malware sample e quindi dire ok questo sample che ha infettato i miei sistemi appartiene ad una famiglia di malware più generica che può essere la GenTest, la Emotet, quelle più famose aiuta a velocizzare le attività di incidental response. Questo perché se io conosco a priori qual è il comportamento del malware quando vado a fare attività di incidental response so già quali sono i file che va a toccare questo malware le chiavi di registro e vedo in maniera più veloce se questo malware si è espanso all'interno della mia rete. Quindi detto appunto che è importante, spero di avervi convinto vediamo un attimo quali sono le regole su cui si fa attribuzione. Intanto quanti analisti ci sono in sala? Analisti che scrivono regole generiche? Vabbè qualcuno, veramente pochi. Allora diciamo che la vita, come l'ho vissuta io poi, dell'analista è quella che arriva a un malware magari da incidental response o trovato su Twitter o trovato su qualche blog post l'analista fa il reverse engineering e quindi guarda le TTP, l'infrastruttura e così via poi fa un'attribuzione e in base poi al malware fa delle regole regole Yara, Snort o anche chiamate Suricata e Sigma. Qua magari c'è un piccolo problema già che vediamo quando l'analista vuole testare queste regole per cui le regole Yara in realtà sono abbastanza semplici da testare per cui scrivo la regola, ho il binario del malware, ho il binario di Yara la eseguo e vedo in pochissimi secondi se ha fatto match o non ha fatto match. Mentre per le regole Snort e Suricata, scusate Snort e Sigma, una volta che io ho scritto la regola andare a vedere se fa match sul sample che sto analizzando non è così banale per una serie di motivi, nel senso che prima di tutto devo avere una VM e questa è la roba più facile per fare malware analysis, è banale però soprattutto devo avere un sistema che vada a raccogliere tutto il traffico di dati e tutti gli eventi di sistema che il malware genera durante la sua esecuzione prendere questi log e poi andarli a fare un match per vedere se con un NITS che può essere Suricata stesso fanno match sui log di rete oppure con un CM oppure qualcissiasi altra tecnologia converto la regola Sigma in un formato utilizzabile e poi vado a vedere se fa match sui log di sistema che il malware ha generato. Ecco già, andare ad automatizzare questo controllo non è così banale. Tutto questo si va a rendere ancora più difficile quando vuole essere fatto su una grande quantità di dati e quindi Avitest stima che ci sono quasi mezzo milione di nuovi malware al giorno ma questo ovviamente è un dato molto grande ma anche se l'analista si dovesse trovare ad affrontare ogni giorno 100 nuovi malware andare a fare un processo estremamente manuale è un'operazione ovviamente inconcludente che gli fa sprecare tantissimo tempo e poi non può dedicare il tempo delle sue ore lavorative a quello che è davvero il suo valore aggiunto e quindi quella che è l'analisi manuale, il reverse engineering che tutti sappiamo bene. Quindi ci sono appunto, come ho detto, tantissimi task per lo più che si possono automatizzare che l'analista fa ogni volta che riceve un malware. Quindi prima di tutto va a vedere se il malware l'ha già analizzato in passato perché noi informatici, vabbè, io soprattutto non è che ho una memoria incredibilmente lunga quindi se magari ho analizzato un malware un mese fa oggi lo riapro e non mi ricordo cosa ho fatto e quindi un sistema che dice no, questo malware tranquillo l'hai già analizzato e l'hai già attribuito può essere super utile. Inoltre l'analista va a vedere se il malware fa match con le sue regole regole come detto Yara, Snort e Sigma. Inoltre l'analista fa anche dell'enrichment quello che può essere fatto, come abbiamo detto prima, con Intel Hall che ci hanno presentato gli altri due speaker quello può essere fatto anche qua in maniera semiautomatica barra manuale però è un'operazione che qua è molto time consuming. Inoltre l'analista vorrebbe avere la possibilità di dire ok, li ho analizzati posso però salvarli in maniera tale che se io voglio fare una nuova analisi su una nuova regola che ho scritto questa analisi non mi impiega ovviamente tre giorni o devo andare a eseguire in maniera dinamica tutti i sample che ho giornalizzato ma vorrebbe avere un match che si faccia nel breve tempo possibile. Quindi qua ci sono ovviamente tantissimi strumenti che si possono utilizzare io li ho divisi in due categorie sistemi chiusi e invece sistemi open source come sistemi chiusi ci hanno ovviamente gli svantaggi che sono a pagamento ovviamente e non so ma non tutte le aziende hanno budget per queste tipologie di ricerche e in più a mio avviso quello che è uno dei più grandi limiti è che non sono personalizzabili quindi se io prendo per esempio il live-hunt di VirusTotal questo funziona solo sulle regole Yara però non può funzionare al momento almeno sulle regole Sigma e sulle regole Snort e quindi se io avessi una metodologia per andare a integrare il live-hunt di VirusTotal con una mia tecnologia ovviamente questa personalizzazione non è fattibile e devo riscrivere anche qua codice, automatizzare insomma diventa un lavoro molto complesso inoltre per determinati ambiti il fatto di utilizzare questi servizi cloud non è una via percorribile per la gestione del TLP perché ok che ci sono comunque dei contratti che vincono il cloud il private cloud e così via però ci sono ambienti dove la confidenzialità del dato è molto importante in cui queste soluzioni non sono accettate e quindi bisogna andare a installare soluzioni on-premise tra le soluzioni on-premise e quindi qua magari ho preso in considerazione quelle che erano quelle open source abbiamo anche qua tantissime soluzioni super verticali che o fanno enrichment o fanno analisi dinamica ma c'è un grande limite nelle soluzioni che esistono al momento e un limite molto importante è quello che non esiste un processo per andare ad automatizzare la valutazione delle regole sigma e quindi questo è diciamo così un gap che non sono riuscito a trovare in nessun framework open source e quindi visto che mi stavo laureando ho detto vabbè perché non ci faccio anche una tesi di laurea sopra e mi sviluppo un framework che fa effettivamente quelli che sono tutti i task che un analista va ad automatizzare che va a fare in maniera manuale ogni giorno quindi le feature di MalteStream in realtà sono tutte queste feature tutti questi problemi che ho riscontrato sia come analista sia poi nel valutare una soluzione da utilizzare e quindi c'è l'attribuzione automatica di sample per le regole Yara, Sigma, Suricata e più l'enrichment inoltre permette le analisi retroattive per le regole Yara e le regole Sigma e quindi mi permette oggi di andare a vedere se la regola che ho scritto fa match su tutti i sample che ho già analizzati per esempio da un anno a questa parte inoltre ho realizzato questo sistema con l'idea di farlo il più scalabile possibile questo perché se un'azienda o un ricercatore ha la possibilità economica di avere un'infrastruttura abbastanza carrozzata può scalare la soluzione quindi senza vincoli software in maniera tale da andare ad analizzare ogni giorno in maniera automatica sempre più malware tutto consultabile ovviamente da un API e da un'interfaccia grafica che dopo vi farò vedere adesso andrò più nel dettaglio per farvi vedere come funziona tutto questo framework che ho sviluppato e quali sono tutti i componenti allora questa è diciamo così l'architettura completa quindi andiamo step by step abbiamo dei connettori che prendono del malware da sorgenti terze che possono essere malware bazar oppure l'antispam che ho installato nella mia azienda prendono il malware e lo inoltre hanno il back end di mass stream questo back end è composto da un primo layer di thread sincroni e un secondo layer di thread asincroni e l'interfaccia API che va a contattare il connettore è quella di prende il malware calcola l'hash per vedere se è già stato analizzato all'interno di un database elasticsearch e se ovviamente è stato analizzato lo scarta per evitare i duplicati ed evitare di perdere tempo e risorse su samples generalizzati se invece non è stato analizzato allora prende il malware e inoltre ha tre thread che agiscono in maniera sincrona rispetto appunto al primo layer questi thread si occupano ognuno di una tipologia di analisi quindi abbiamo l'analisi dinamica che va a valutare le regole Yara Sigma e Suicata abbiamo un secondo thread che invece si va a dedicare all'analisi retrattiva e ho pensato di utilizzare questo modulo anche come storico di malware Grezzi che il framework ha utilizzato e quindi ci ho aggiunto un file system che fosse abbastanza capiente terzo punto l'ultimo thread invece fa analisi statica quindi secondo le regole Yara e in più fa enrichment e quindi va a contattare i servizi terzi per vedere se questi servizi hanno già attribuito il malware che è in analisi qua diciamo che ho duplicato l'analisi delle regole Yara perché appunto sia nell'analisi dinamica che nell'analisi statica perché l'analisi delle regole Yara è super veloce mentre l'analisi dinamica invece coinvolge ovviamente l'esecuzione del malware e quindi è molto più lenta in questo modo spostando anche e duplicando il controllo delle regole Yara quando faccio l'osint mi permette sia di prendere regole Yara da terze parti e in più da dare un feedback istantaneo o quasi istantaneo all'analista per un risponso su quella che è stata l'analisi su queste regole e una volta ovviamente che tutti questi thread hanno ottenuto i risultati sono stati caricati su database Elasticsearch poi sviluppato come detto un'interfazza grafica in React che contatta un API di management e questo API a sua volta contatta sia il database e l'asticsearch perché in questo database sono contenute le regole grezze inserite dall'analista e quindi in questo modo può cancellarle aggiungerle modificarle e così via e in più va a contattare un layer di API che ho sviluppato ad hoc su ogni modulo al fine di andare ad aggiornare le regole Yara Sigma e così via che scrive l'analista all'interno di ogni singolo modulo così che il modulo può fare la valutazione del malware con le regole sempre aggiornate ok adesso andiamo a vedere invece più nel dettaglio l'implementazione di ogni modulo allora i connettori in realtà non sono praticamente stati implementati perché il loro compito è quello di prendere il malware da una parte e inviarlo attraverso la richiesta HTTP al backend non hanno nessuna funzione di intelligenza quindi non fanno il controllo sui duplicati non fanno il controllo sulla dimensione o sul tipo di file perché tutto fatto ovviamente è lato backend e quindi vabbè non ci perderei neanche troppo tempo andiamo invece più al backend quindi il backend come detto ha un primo layer di thread sincroni e un secondo layer di thread asincroni è tutto sviluppato utilizzando FastAPI quindi Python al fine di andare a prendere tutti i vantaggi della concorrenza offerti da Python 3 e il layer di thread asincroni è stato sviluppato anche qui come nel caso appunto di Intel Hall utilizzando Celery che si poggia poi su un gestore di code nello specifico RabbitMQ perché mi permette di fare una prioritizzazione tra le code in questo modo io ho una coda per ogni modulo in più posso dire ok worker per esempio dell'analisi retrattiva tu leggi dalla coda di questo modulo ma in più vai a leggere anche dalla coda di un altro modulo in questo modo i thread che finiscono prima al posto di stare fermi vanno a smazzarsi altri messaggi da code che ci mettono più tempo come quello dell'analisi dinamica e in questo modo non rischio di avere un sistema in idle con worker che effettivamente non stanno lavorando in quel determinato momento ecco adesso invece andiamo a vedere modulo per modulo quindi analisi statica retrattiva e dinamica quali sono i tool che ho utilizzato e customizzato vabbè Intel Hall non ha bisogno di presentazioni e quello che ho fatto è stato aggiungere un analyzer per andare a mettere le regole IARA inserite dall'analista insieme a tutte quelle che invece vengono prese in automatico da Intel Hall dopodichè ho aggiunto Trendpoint al back-end Django di Intel Hall che permettono la sincronizzazione di queste regole con quelle inserite nel database elasticsearch che sono state appunto modificate dall'analista in questo modo Intel Hall in ogni istante ha tutte le regole sincronizzate col database elasticsearch dopodichè ho disabilitato quasi tutti gli analyzer perché mi interessava avere solo gli analyzer che funzionano per file o per tipologia di hash anche qua magari si può andare a fare un tuning su quelle che sono le regole di TLP e quindi abilitare un determinato analyzer sia il TLP e basso oppure disattivarlo se il TLP invece è molto alto il secondo modulo è quello dell'analisi dinamica e qua c'è stato un bel po' di lavoro da fare diciamo allora il framework utilizzato è CAPE che è un successore di QCO2 e la prima funzionalità che ho implementato dentro CAPE è quella di aggiungere un modulo per il reporting di Elasticsearch perché di base CAPE supportava solo il sabotaggio dei dati dei risultati su MongoDB e quindi io per avere sia una coerenza infrastrutturale sia per appunto poi come vedremo utilizzare solo Elasticsearch come database ho aggiunto questo modulo di reporting e poi ho caricato tutte le modifiche sulla repository ufficiale sono state emergiate e quindi adesso le mie modifiche le potete già trovare sul branch di upstream di questo progetto dopodichè come ho fatto per Intel Hall ho creato 6 endpoint 3 per le regole Yara e 3 per le regole su dedicata anche qua per tenere sincronizzate le regole che va a valutare effettivamente CAPE con quelle inserite dall'analista le regole sigma vediamo nella prossima slide come sono state valutate ecco qua c'è stata diciamo così una difficoltà in più questo perché CAPE non va a ricaricare le regole Yara ogni volta che va a fare un'analisi ma le ricarica ogni volta che viene restartato il framework quindi quello che ho fatto è stato modificare il back end che una volta appunto andati a chiamare questi endpoint andasse poi a ricaricare le regole Yara con cui CAPE fa attribuzione stessa cosa per Suricata ma in maniera un pochino diversa nel senso che CAPE utilizza Suricata come demone per andare a fare a vedere se appunto il dump creato fa match con qualche regola del suo ruleset qua ho dovuto aggiungere un comando che viene mandato da CAPE al demone di Suricata per dirgli ricaricati le regole ma in maniera non bloccante e qua invece andiamo a vedere quella che può essere considerata effettivamente anche una piccola novità che ho portato un po' nel mondo open source allora abbiamo questo appunto è il processo di valutazione delle regole Sigma e come parte prima di tutto ho installato una macchina virtuale Windows 7 che è effettivamente la sandbox su cui viene eseguito il malware e ho installato l'agente CAPE questo diciamo così da linea guida proprio di CAPE quindi questo è il primo passo abbastanza semplice dopodiché ho installato anche l'agente Elasticsearch e su Kibana ho creato una configurazione per questa gente in maniera tale che andasse a leggere sui Windows Channel importanti e rilevanti per la creazione di regole Sigma quindi possono essere Sysmon application security insomma così via ho preso questa configurazione ho aggiunto del file di template e ho spostato questo file di template ovviamente sulla macchina su cui ho fatto uno snapshot quindi cosa succede? succede che CAPE riceve il malware e avvia lo snapshot poi parte l'agente di CAPE e l'agente di CAPE l'ho modificato per andare a configurare i template che ho lasciato nel file di configurazione dell'agente di Elasticsearch e ci va ad inserire l'hash del malware che è in esecuzione in questo modo quando l'agente di CAPE appunto fa questa configurazione avvia l'agente di Elasticsearch parte il malware e l'agente di Elasticsearch inoltre tutti i log di sistema al database di Elasticsearch in maniera univoca perché contengono l'hash del malware che era in esecuzione quando appunto sono stati raccolti dal sistema dopodiché il malware ovviamente finisce si spegne la macchina e si ritorna alla macchina dove c'era il template parallelamente il back-end prende le regole Sigma le trasforma in query Elasticsearch e in più crea un alerting sul sistema di alerting di monitoraggio di Kibana in questo modo questo sistema va a monitorare costantemente l'indice dei log per vedere se c'è un match tra la regola Sigma scritta dall'analista e il log invece prodotto dal malware che era in esecuzione se c'è questo match questo documento viene preso spostato sull'indice dei risultati e come detto qua identificabile in maniera univoca perché contiene l'hash del malware che era in esecuzione quando è stato appunto generato il log l'ultimo modulo quello dell'analisi retrattiva qua vabbè ho usato appunto come detto supporto a Yara e Sigma al momento e per le regole Yara ho utilizzato un framework già esistente che si chiama Anquery che mi invito a utilizzare sviluppato dal cert polacco e ho dovuto fare pochissime customizzazioni ho solo aggiunto degli end point per caricare un malware e per scaricare un malware mentre l'analisi retrattiva per le regole Sigma mi viene un po' in automatico perché appunto io ho già tutti i dati dei log di sistema del malware di esecuzione su Elasticsearch quello che devo fare è solo prendere la regola Sigma trasformare una query Elasticsearch e restituire i risultati all'utente quindi direi tutto molto figo spero almeno e vediamo un attimo come può essere utilizzato all'interno di uno scenario di vita reale ecco allora prendiamo un analista che vuole analizzare un malware che non sia già noto quindi non può basarsi su blog, post o twitter ma se lo deve diciamo così cercare da solo non può contare su un team di instant response perché magari quel team o non esiste proprio oppure quel giorno ha un'attività da fare o non ha prodotto nuovi malware interessanti o nemmeno su un sistema di levante però quello che viene diciamo così in aiuto all'analista è un sistema di antispam che ha flaggato 100 sample con una label che è abbastanza lasca e generica perché appunto è Wintroian generic che effettivamente non è un'attribuzione vera e propria quindi se qua l'analista non avesse nessun tool automatico quello che farebbe sono tutti gli step che ho detto prima quindi prendi questo sample va fatta analisi statica e dinamica va caricato per esempio su various total oppure su un tool come interhall e così via e quindi l'analista perde tantissimo tempo a fare queste operazioni manuali poi magari arriva alle 4 ha trovato un sample però gli rimangono 2 ore su cui fare il reverse engineering l'analisi automatica scrive le regole che poi effettivamente è il lavoro che gli piace e per cui viene pagato quindi mettiamo che caso invece che l'analista utilizzi MassStream e MassStream ha un connettore che prendi da i sample dall'antispam e li butti al suo interno l'analista quindi può utilizzare l'interfaccia grafica per vedere qual è il malware che vuole analizzare in quel giorno quindi andiamo a vedere un attimo l'interfaccia grafica qua ho una lista di regole dove il badge rosso mi identifica quanti sono i risultati che ho ottenuto per la determinata regola e qua già secondo me abbiamo un caso d'uso abbastanza quotidiano quindi l'analista scrive una regola molto specifica per esempio un 3-tactor per una settimana non succede nulla poi il giorno in cui appunto non ha nulla da analizzare vede che c'è stato un match allora l'analista sicuramente punterà su questo sample per vedere se è un match che può essere correlato alla stessa campagna è un match che può appartenere al 3-tactor ma in una campagna diversa oppure semplicemente su un falso positivo quindi apre la regola qua c'è un'interfaccia grafica per andare a scrollare tutti i risultati e per vedere a colpo d'occhio quali hanno fatto match con determinate regole e quali no mettiamo che questo non è il suo caso quindi nessun sample ha fatto match con le regole e si sposta invece sulla pagina dei risultati qua la pagina dei risultati appunto mostra tutti quelli che sono i risultati che Malstream ha preso al suo interno e attribuito e con un badge rosso anche qua viene identificata la regola che ha fatto match con il sample mostrato anche qua l'analista può decidere di andare a prendere un sample come questo dove l'osint non mi ha dato risultati quindi servizi terzi attraverso Intel Hall non mi hanno restituito un'attribuzione in più ha fatto match con solo le regole di Intel Hall quindi di terze parti ma nessuna delle mie regole e queste regole mi danno in teoria un'idea di base su quello che può fare il malware quindi so che è sicuramente Windows e quindi informazioni generiche che però non sono abbastanza per fare attribuzione quindi diciamo che l'analista si concentra su questo sample lo prende lo scarica fa il reverse engineering e può creare le regole Yara, Sigma e Suricata per poi inserire il mainstream qua come vediamo attraverso l'utilizzo di pochi click l'interfaccia grafica e magari scrollare un po' qua e là e vedere i risultati l'analista è andato dritto per dritto su un sample da analizzare al posto che ha avuto sprecare tantissime ore in analisi semi-automatiche noiose ripetitive e che appunto gli fanno perdere la voglia anche di fare questo lavoro come è venuto a me effettivamente quindi abbiamo detto inserisci queste regole in mass stream e qua puoi avviare le analisi retroattive per vedere se ci sono dei falsi positivi su tutto il dataset già raccolto oppure puoi andare a monitorare nuovi match per vedere se ci sono anche qui dei falsi positivi oppure dei malware correlati alla stessa campagna quindi scriviamo la regola e qua vi mostro un attimo regola Yara super insomma un po' super facile per farvi vedere poi nel dettaglio quali sono le stringhe che hanno fatto match scrivo la Yara qua vi faccio vedere invece che l'interfaccia grafica mi permette anche una ricerca full text all'interno del database di ASCII Search questo è un modo che ha una lista per tenere organizzate tutte le sue regole al posto che magari andarsene a cercare e perdere tempo anche per vedere tutte le regole che ha scritto in precedenza qua abbiamo come potete vedere di fianco alla regola sigma e la regola Yara un tastino che mi permette di fare l'analisi retroattiva quindi schiaccio il pulsante e mass stream mi permette di fare l'analisi retroattiva come detto di questa regola e darmi in tempo reale tutti i risultati trovati una volta che ho questi risultati posso scaricarli da mass stream e anche qua fare l'analisi manuale per vedere se sono farsi positivi oppure se sono sample interessanti un altro caso d'uso è quindi quello di andare a monitorare tutti i nuovi sample che hanno fatto match con la regola che ho scritto sempre per le stesse ragioni che ho detto prima quindi qua ho creato un sample ad hoc che facesse match con la regola che ho scritto vado sul dettaglio del sample e ho varie sezioni una per ogni tipologia di regola e in più la sezione dell'osint all'interno di ogni sezione ho il dettaglio del match che ha portato appunto a fare il match la regola che ho scritto con il sample analizzato e quindi ho le stringhe che ho fatto vedere in precedenza color offset per le regole sigma invece vedrei il dettaglio preso dalla leggente elasticsearch dell'evento di sistema quindi un dettaglio abbastanza verboso per suricata ho i metadati della connessione mentre per la sezione di osint ho il vendor che ha fatto l'attribuzione del malware e in più la label con la quale è stato attribuito ah c'è uno scenario bonus che è quello di crearsi al proprio interno nella propria azienda un dataset di malware annotato dove le label sono le regole che hanno fatto match quindi le mie regole quindi un database e un dataset molto customizzato le label appunto sono le regole che ho scritto e il malware essendo che raccolto e attribuito in maniera automatica può crescere a dismisura e quindi consente a degli sviluppatori che si interessano di machine learning o deep learning andare a utilizzare questo dataset per fare ricerche e magari trovare una via di attribuzione attraverso come detto il machine learning quindi una diciamo così una via molto più scientifica se vogliamo e quindi meno basata su regole statiche ma più che altro in maniera un pochino più dinamica ed attiva ora vi farò vedere invece le performance ottenute perché ok questo framework funziona questo ve lo garantisco però ovviamente l'analisi dinamica e l'analisi statica ripiegano tempo allora io avevo a disposizione queste risorse per cui per l'analisi dinamica dove ho installato Cape avevo un host deployato su GCP e ho utilizzato ovviamente una soluzione ibrida tra più cloud e servizi perché non avevo nessuna restrizione TLP e perché tutti i malware che ho usato per testare erano presi da malware bazar quindi in realtà vi faccio vedere una soluzione ibrida ma perché non dovevo gestire un TLP molto elevato però ognuno poi può installarsi tutte queste macchine sul proprio datacenter quindi una macchina di analisi dinamica elastic utilizzato come servizio cloud con due nodi poi l'analisi statica e l'analisi retroattiva sono state fuse nella stessa macchina con un file system come detto abbastanza capiente 16 terabyte e poi ho utilizzato un host di back end di front end che qua messi sulla stessa macchina perché non è che avessero bisogno di grandi prestazioni il deploy graficamente è venuto in questa modalità qua qua vorrei sottolineare il fatto che il framework è super modulare e quindi è replicabile e scalabile soprattutto in maniera verticale ovviamente andando a aumentare la potenza per esempio dell'analisi dinamica e quindi aumentare la RAM e CPU ma è anche scalabile in maniera orizzontale e quindi se io ho un'infrastruttura appunto abbastanza capiente oppure dico vabbè intanto lo deployo in questo modo poi magari in un secondo momento voglio aumentare le capacità posso farlo perché il software me lo permette e quindi da avere solo un host per l'analisi dinamica ne posso avere diversi stessa cosa invece per le istanze di Intel Hall e quindi possono lavorare parallelamente andando a scalare il carico allora andiamo quindi a vedere le performance allora il rate di ingestion è abbastanza alto quindi ho ottenuto che il framework può caricare al suo interno per mandare in carico ai suoi worker per analisi più di 300 sample al minuto il tempo di esecuzione complessivo per l'analisi statica e per l'enrichment è stato di circa quasi due ore e comunque su 1000 sample è un tempo abbastanza buono ovviamente il collo di bottiglia è stato quello dell'analisi dinamica questo perché come sappiamo tutti l'analisi dinamica ha bisogno di un tempo fisso per lasciare al malware la sua esecuzione e quindi il fatto di poter creare log di rete e log di sistema se io accorcio questo tempo ovviamente aumento le performance però al malware magari non genera così tanti log al contrario se io invaso vado ad aumentare questo tempo ovviamente le performance vanno a degradare però lascio al malware la possibilità di creare più log e quindi un migliore monitoraggio se vogliamo quello che ho fatto per fare un test anche qua è andare a raddoppiare le istante di macchine virtuali all'interno di CAPE che avevo a disposizione e quindi il tempo si è abbattuto e effettivamente si è dimezzato e quindi qua diciamo così un highlight sulla scalabilità di tutto il framework ok io sono quasi la fine allora considerazioni finali quindi il framework che ho realizzato è open source scalabile automatizza l'attivuzione delle regole Yara Sigma Solicata e più fall enrichment in più permette l'analisi retrattiva come ho fatto vedere delle regole Yara e delle regole Sigma e l'obiettivo è quello di consentire ai analisti di risparmiare tempo su tutti quelli che sono i processi manuali noiosi e che non ci piacciono per concentrarsi effettivamente sulle attività più manuali che portano più valore all'azienda e che sono anche più divertenti e rilevanti per chi fa il lavoro del malware analyst allora come detto sarà open source nel senso che io mi sono laureato tre mesi fa applauso grazie e appunto in questo breve tempo ti è passato tra la mia Laura a Kimbo per parlare tutto non ho avuto il tempo di sistemare le ultime cose perché sono un po' diciamo così un po' perfezionista quindi mi piace deployare le cose quando sono in uno stato abbastanza pronto devo finire per esempio la documentazione non del codice figuriamoci ma proprio di come funziona il framework quindi insomma sarà breve vi prometto di deployarla breve su GitHub a questo link però nel caso vogliate contattarmi in privato dopo vi faccio vedere i miei riferimenti nel frattempo ci sono tutte le repository sul mio sul mio appunto sul mio profilo di GitHub le repository che ho customizzato che ovviamente per forza dovete utilizzare quelle che ho customizzato per far funzionare tutto il framework perché poi contengono tutti gli end point che ho fatto vedere in precedenza e quelle sono già ovviamente online non sono aggiornate perché devo sincronizzarle con i branch di upstream di ogni progetto però insomma diciamo che volevo anche cogliere l'occasione di ringraziare singolarmente gli sviluppatori e i maintainer di questi repository perché mi hanno permesso a mia volta di creare un progetto che spero sia interessante e che vorrei ridare alla community come poi gli sviluppatori di questi repository hanno fatto quindi insomma anche qua colgo l'occasione di ringraziarli quindi questi sono come detto i miei contatti mail, twitter, linkedin e così via scrivetemi sulla mail quella probabilmente che leggo di più e niente vi resta appunto spero vi sia piaciuta la presentazione spero che utilizzerete questo framework per qualsiasi informazione comunque che non riusciamo a svolgere qua in questi dieci minuti che ci rimangono sono fuori tutto il resto della giornata grande Matteo Corradini grazie aspettiamo quindi con grande apprezzione quasi deploy su github ci sono domande? domande 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 sì ciao Matteo grandissimo bravissimo progetto veramente potente e voglio farti una domanda riguardo l'analisi statica tu usi solo Yara? sì sì al momento solo Yara e le Yara poi come ti ho detto fatte dall'analista e prese da sorgenti terze quindi sì per adesso sì poi devo vedere un attimo anche lì magari riesco a customizzare Intel Hall per farmi fare delle robe un po' più interessanti però l'idea è che l'analista poi vado ad inserire al proprio interno del framework delle regole quindi su cui posso giocare sono questa regola al momento bravissimo poi innanzitutto penso che potresti anche integrare magari con VirusTotal è quello attraverso Intel Hall ah ok passi da Intel Hall perfetto e infatti lì poi c'è un discorso del fatto che VirusTotal ti può fare analisi cioè Intel Hall è configurabile per fargli caricare il file oppure per passare il hash e quindi anche lì se sei in con un TLP alto non gli passi il file ma magari gli passi solo il hash altrimenti gli passi tutto perfetto grande bravissimo grazie ciao complimenti innanzitutto per il lavoraccio di tesi volevo farti invece le domande sull'analisi dinamica in particolare non ho capito l'hypervisor che usi l'hypervisor che utilizzi per spawnare le macchine virtuali e poi volevo chiederti il tempo di esecuzione per sample cosa quanto hai deciso e se hai provato sistemi operativi che fossero più recenti rispetto a Windows 7 e se si come ti sei trovato allora l'hypervisor che ho utilizzato era KVM perché avevo già un'istanza di KVM deployata con KVM quindi in realtà ho utilizzato quell'hypervisor riguardo ai sistemi operativi allora qua c'è un po' un discorso nel senso che al momento non li ho testati poi ovviamente l'agente di Elasticsearch è cross platform e anche Python cioè l'agente di Cape è sviluppato con Python e quindi anche qua è abbastanza cross platform l'unico problema c'è almeno una feature che volevo andare a vedere che è una delle due feature diciamo così che mi mancano del framework è permettere l'analisi dinamica su Linux quindi sono macchine virtuali che sono Debian e si insomma Debian, Ubuntu e così via perché non ho ancora controllato se l'agente di Cape è pronto per fare questo lavoro oppure se c'è da riscriverlo devo vedere un attimo che è lo stato dell'arte di questo agente però anche lì il concetto è lo stesso è stato l'agente Elasticsearch cerco il V-Log li mando il database e poi lì faccio la votazione delle regole Sigma quindi per esempio se tu dovessi utilizzare anche versioni di Windows più recenti cioè supponi di poterlo fare tranquillamente? sì, suppongo di sì perché appunto l'agente di Cape si basa su Python quindi immagino di sì poi non ho visto se ultimamente sono delle issues aperte sul progetto di Cape però non ho letto diciamo così nulla di vincolante le tecnologie bianomali sono quelle supportabili quindi immagino non ci siano problemi però onestamente non te l'ho testato poi ultima cosa volevo chiederti quindi alla fine se ho capito bene stai spawnando due macchine virtuali per analisi dinamica? aspetta sì, comunque ah no, non ce l'ho più comunque il primo test che ci ha messo 27 ore sì, due macchine virtuali ah, l'esecuzione era tre minuti quella che appunto mi hai chiesto prima e ne avevo due al momento poi ho detto vabbè proviamo un attimo a tirare il collo alla macchina su cui giravano effettivamente ne giravano quattro alla volta e quindi poi ho rifatto tutti i test con ah, grazie ho rifatto tutti i test con il doppio delle macchine virtuali e come mi aspettavo effettivamente sono andati il tempo si è poi dimezzato aspetta che magari ci arriviamo ok, questo come ti dicevo due macchine virtuali i primi test poi ho detto vabbè vediamo se scala effettivamente perché se no vado a raccontare poi delle barzellette effettivamente raddoppiando le macchine virtuali si è abbattuto poi ovviamente su 13 ore minuto più minuto meno ecco un po' di tolleranza però il tempo si è poi ridotto alla metà e quindi immagino che lavorando in maniera parallela a queste macchine se io ogni 8 16 vado ancora a ridurre di più questo tempo di questi mille sample che hai testato parliamo dopo no fare domande anche gli altri si si vai vai di questi mille sample cioè sei riuscito effettivamente a analizzarli senza che si siano rotti durante l'esecuzione sì diciamo che alla fine di tutto sì poi ovviamente per arrivare al fatto che tutti questi mille sample fossero analizzati senza problemi ci ho impiegato un po' di tempo quindi e anche qua è un'operazione abbastanza fastidiosa perché alla notte carichi mille sample al mattino ti svegli guardi log cosa è andato cosa è andato però diciamo che ho visto che non c'erano false attribuzioni quindi quando effettivamente c'era il log su Elasticsearch che messava la regola Sigma c'aveva anche il risultato quando invece non c'era appunto non c'era nemmeno il log quindi è stato anche difficile testarlo perché poi magari un malware una volta ti fa scattare una regola l'altra volta non te la fa scattare quindi in realtà qua la configurazione delle sandbox è un po' a parte di questo progetto grazie vabbè se hai altre domande dopo ne parliamo con questo qua ancora domande sì vengo di qua direi che potevi portare anche un po' di barzellette che andavano benissimo quando lanciavi le sandbox hai pensato cioè per ottimizzarle le spegnevi e le regeneravi ogni volta o immagino di sì perché in realtà sono anche abbastanza corrotte e hai già fatto vedere un metodo per ottimizzarle per eventualmente ridurre sempre queste bellissime 13 ore in realtà tipo aspetta ah qua c'è ok sì il fatto che questo è il funzionamento di Cape quindi tu a Cape dai un nome di uno snapshot che hai fatto che io ho utilizzato appunto la macchina template e lui ogni volta che parte una nuova analisi parte da questo snapshot quindi lo snapshot conteneva l'agente di Elasticsearch spento il file di template vuoto e quindi ad ogni esecuzione l'agente di Cape va a configurare e avviare l'agente e no il fatto cioè non ci sono altre ottimazioni almeno non mi vengono in mente se non appunto andando a replicare istanze di queste macchine virtuali la cosa che permette la scalabilità orizzontale è che i sistemi al loro interno sono stateless per cui Cape in realtà non ha un'informazione propriamente sua che non può essere replicata perché tutte le regole poi sono salvate su database Elasticsearch quindi il database Elasticsearch contiene l'unica verità e Elasticsearch anche tu sai benissimo che è scalabile orizzontalmente all'infinito e tutti i componenti sono stateless scalabili orizzontalmente però io almeno ci vedo un'unica via di uscita per andare a diminuire quel tempo e scalare ok ancora domande ok ho provato un po' di paura quando un ex speaker parla con un nuovo speaker aiuto ok grazie mille allora Corrado grazie mille davvero applausi grazie mille davvero grazie mille davvero